Un incendio è divampato nella serata del 4 dicembre attorno alle 19.05 a Villa Franca, in uno stabile di via Quadrato. Sul posto i vigili del fuoco, che sono intervenuti con tre mezzi, un'autoscala e 12 uomini. Le fiamme si sono propagate fra gli arredi della mansarda, coinvolgendo anche parte del tetto, ma fortunatamente non hanno raggiunto il piano sottostante, evitando l'evacuazione della famiglia.